bentornati al tavolo di gioco partiamo subito con un gameplay a quattro giocatori all'inizio dovete semplicemente mettere in ordine casuale i vostri lego quindi li potete sorteggiare c'è un'eccezione la prima manche lo squalo non mangia nessuno quindi andiamo a vedere i giocatori ora farò le loro puntate segretamente eccole qua i giocatori hanno scelto vediamo un po che cosa hanno girato per la prima manche allora partiamo col numero più basso che il numero 2 però è stato giocato due volte quindi il bianco e il blu non si muovono poi il numero più basso ancora che è il 4 però è stato giocato due volte quindi il rosso e nero non si muovono lo squalo normalmente mangia il blu ma nel primo round non mangia nessuno e quindi la situazione è questa queste carte sono state giocate adesso bisognerà scegliere un'altra e farò di nuovo la selezione segretamente benissimo i giocatori hanno scelto andiamo a rivelare il blu ha giocato il 3 il rosso ha giocato il 2 il bianco ha giocato il 3 e il nero ha giocato l'1 allora partiamo col numero più basso quindi il nero ha giocato l'1 e viene messo davanti ma è già davanti poi andiamo col 2 che è il rosso che va avanti poi dopo andiamo col 3 che però hanno giocato in due quindi il povero blu che è stato sfigato gli andiamo a staccare una gambina o un braccino o facciamo un braccino e rimane tre vite il blu quindi per il regolamento viene spostato in cima e raccoglie tutte le sue carte e gli vanno praticamente in mano ora comincia un altro round andiamo a vedere la selezione delle carte benissimo i giocatori hanno scelto quindi giriamo blu vola col 5 perché vuole beccare gli altri visto che in posizione avvantaggiata ma non li becca quindi partiamo col numero più basso che è l'1 che è il bianco quindi il bianco viene portato in cima poi abbiamo il 2 che è il nero poi abbiamo il 3 che è il rosso poi abbiamo il 5 che è il blu che stavolta non si fa fregare e lo squalo smostica il bianco quindi gli stacchiamo a lui una gambina dai via la gambina poi da regolamento una sola non due ma qui si è staccato proprio il tronco via da regolamento chi è stato smuzzicato va in prima posizione quindi qua e raccoglie tutte le sue carte queste le mette in mano poi deve iniziare un altro turno però se avete rimasto due carte in mano avete diritto a prenderle tutte cioè in sostanza quando ne avete giocate tre quindi i giocatori riprendono tranne il blu che ne ha ancora quattro in mano benissimo i giocatori hanno selezionato vediamo che cosa salta fuori ecco qua i numeri parte il rosso che si mette davanti poi abbiamo il 2 che è il blu che va davanti il 4 che è il bianco e il 5 che è il nero quindi qua mi sa che alla volta del rosso a lui gli stacchiamo anche lui una zampogna poi lo mettiamo in cima e il rosso riprende tutte le carte altra manche perfetto queste sono le scelte dei giocatori vediamo quali sono i numeri benissimo partiamo con l'uno del blu che vola avanti poi abbiamo il 3 del nero e poi abbiamo bianco e rosso che invece hanno giocato 5 tutte e due quindi il bianco rimane fregato e li facciamo fare e facciamo nuotare solo con le braccia ecco qua va in cima come da regolamento madonna santa questi lego non vogliono stare attaccati il bianco è stato morso quindi riprende tutte le carte chi ha giocato quindi tre carte perché gliene rimangono due in mano riprende tutte le carte che è la volta del blu e poi inizia un altro turno queste sono le scelte dei giocatori vediamo di cosa si tratta parte il rosso con un 2 che va in cima poi parte il blu con un 3 che va in cima poi dopo tocca al nero 4 poi tocca al bianco 5 quindi tocca al rosso gli stacchiamo un braccetto eccolo qua poi dopo lo portiamo in cima raccoglie le sue carte come lo raccolgono quelli che ha rimasto due carte in mano il giocatore hanno scelto vediamo di nuovo questi sono i numeri quindi abbiamo partiamo dall'1 che va in cima poi tocca al 4 che è il bianco che va in cima e i 2 5 stanno fermi quindi blu noterà solo con la parte sinistra del corpo come al solito chi è stato mangiato vola in pole position e raccoglie tutte le carte altro giro altra corsa partiamo con i 2 1 che stanno camorosamente fermi poi scatta via il 3 e poi scatta via il 5 quindi viene mangiato il bianco che ormai pure at la rive e viene messo in cima come al solito raccoglie tutte le carte ecco il nuovo giro vediamo che cosa hanno giocato niente da fare abbiamo partiamo con gli 1 rosso e bianco stanno fermi poi va il 3 che è nero in cima poi va il 4 che è il blu e va in cima il rosso viene smozzecato anche lui dopodiché viene messo in cima come facciamo di solito da notare il signor nero è ancora il leso è sano come un pesce il rosso che è stato mangiato raccoglie ma raccoglie anche il nero che è rimasto due carte in mano ecco quale nuove carte vediamo un po partiamo con l'1 che è il rosso che va in cima poi tocca ai 2 che stanno fermi poi la volta del 5 che schizza in avanti e finalmente il nero inizia a subire qualcosa anche lui poi il nero vola in avanti recupera tutte le sue carte ma le recupera anche il blu che ne ha rimaste due in mano vediamo le nuove carte dei giocatori siamo messi così partiamo con l'1 blu poi dopo andiamo con il 2 bianco 3 nero 5 rosso tocca al blu ormai siamo agli sgoccioli anche con lui via la gambetta il blu va in cima recupero le sue carte e anche il bianco che ne è rimaste due vediamo vediamo hop la partiamo con l'1 il blu che al 1 riesce a bloccare il bianco che al 1 poi tocca al 2 che va in cima poi tocca al 4 nero che va in cima quindi chi il bianco signore e signori si saluta perché stacca l'ultimo arto e va fuori dal gioco vediamo la pila delle ossa il rosso recupera le carte perché ne è rimaste due vediamo un altro giro ok vediamo cosa scelgono i giocatori nero sceglie l'1 non è stata una grandissima mossa poi tocca al blu poi la volta del rosso che la scampa e quindi il nero si fa smuzzicare togliamo una gambetta lo portiamo in cima e raccoglie le carte questo è il prossimo round vediamo che cosa succede ai giocatori ullala allora parte il 4 che è il rosso che va avanti di 1 i 5 si bloccano quindi viene mangiato il blu che va fuori dal gioco ma la regola vi ricordate quando rimangono due giocatori lo squalo mangia automaticamente quello più indietro quindi il nero viene smaciullato e il vincitore è il giocatore rosso vediamo che cosa io penso di questo gioco beh direi che il voto è sicuramente positivo a me è piaciuto nella sua semplicità ci sono poche regole da spiegare quindi c'è il vantaggio che non perdete tempo potrete giocarlo ovunque in spiaggia in aereo potete portarlo al pub non c'è bisogno di giocatori assidui quindi anche per neofiti assoluti l'idea di staccare il braccio o la gamba al proprio lego secondo me è un'idea stupida quanto geniale e innovativa in più è un gioco che dà suspense e in certi momenti quando dovete giocare la carta giusta al momento giusto ci sarà un bel po di tensione fra i giocatori detto questo quindi il gioco è assolutamente consigliato io vi ringrazio come al solito per aver visto il mio video e ci vediamo alla prossima ciao ciao